Ciao a tutti ragazzi, qui è Giosi, ragazzi, siamo i compagni di Disney, Dex, ma sarò un ninja Porco cane Gizzi E stiamo facendo il game con tutti Del voi No raga, mi dovete coprire Perché Ezra ha tirato un'altra acqua e mi ammazzo Io lo metto qua e lui non la prende Ecco, fatta Io però devo fare il giro e non so se fare il tempo Io so come li stoppo Aio Pam, pam, pam Che vuole questo Non lo so, voglio buttar Guarda dove sta Oh, no, non può nemmeno guardà Madonna, te sei messo proprio diamanti a me Devi riusci a perci Ho riusciato Guarda, guarda, guarda ninja Guarda, lo sta a vedere ninja Mamma mia Ragazzi, a tre arda Madunina Ah, non ci sei se Aio, aio, aio Niente, gli è andato in bocca Tranquilla, se puoi Pam No, ma andiamo tu, Ezra Mi fanno in bocca Io, 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 io Ho vedato come una merda, Ezria Mi piace il cazzo, Ezria Mi piace il cazzo Manca Orianna Non voglio giocare top Ripni, piccolo Angelo Non gli levo nulla È morto Eh, ma fai true damage Ok, ti ho rubato un po' di esperienza Su, chiami il tentacolo Su, chiamelo tutto Il tentacolo Vado a mettere Oh, attento Eh, che ci sta? Eh, un moschino Vieni? Ma cazzo c'è Ragazzi, devo levare il portale Dove levare il portale? Se no va a finire Che gizzi c'è canca No, no, non levare il cazzo Ah, Andrea ha fatto l'autostrada in giunga Incredibile Bella, eh Bellissima Ah Fa come la banca Medioround Gira intorno a te O feed intorno a te Mamma mia, fortissimo Eh, vabbè, cioè Sono un cogmo in early Non serve a niente Eh, lo so Non serve un late, io Quindi versi 20 minuti Oh, xd meme Vieni qua, stupio schifoso Matonna Matonna Quante ti le hai detto No, non è faccio La Q, veramente E' rip Ma gazzix, gazzix, gazzix Che è più squishy, gazzix Bravo Lui, mo Non ho potuto aspettare la Q Io a sta pozione Ce la vado a farvela? Mmm Ah, vabbè Ah, stupido ninja Rip E' la Q Bello main Pro Veramente, è storico Ma mi fai inca... Ma cazzo Uh, ninja Quattro ha arrestato Mamma mia Ho scritto pro Mamma mia Ho scritto pro C'è che è coso Senti il sale Senti il sale Alistar C'è più cooldown Della mia Meno cooldown Della mia W Raga, ricordatevi Non sarà troppo la pasta Perché poi fate un ninja Sì, sì Poi questo è il risultato Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahhhh C'è one shot à dai 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 no che cazzo hai fatto non voglio entrare nel cazzo di e addirittura no veramente dai non puoi farlo seriamente ma è possibile c'ha la mobility di una merda guardate ragazzi quella è l'uno con 200.000 spell ragà mi hanno buttato due alti e non so capare oh cazzo niente cioè Jarvan sta lì in mezzo e fa quello che vuoi no ma lo mangio però Jarvan e dai! Orianna si salva di nuovo e invece no oh alleluia eeeh papapapapapa trovai? oh c'hai io nooo l'ho preso l'ho preso dammi del mana hai preso le kill snake ne ho presi due sta arrivando mi sa che muore perchè oh oh ha preso un altro kill arrivando gli spooky skeleton eeeh che bm sta oriana oh un altro kill vai 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 che ti sciolgo tutto sciolgo tutto vai oh oh l'ho ammazzato ahahahah oh vai 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 così vai 179 di difesa fisica che cos'è che cos'è fatto oh 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 guarda un po' oh cazzo t'angagge su bambi eeeh zero ma non ha la ulti eh nel caso ah hanno shottato anche me dai usa i poteri usa i poteri i percots degli angoli ma perchè t'ha ha flashato la curiga una cosa ah sa non devi stare da solo altrimenti perdiamo i fight ah senza edz eh inz era in base ha autato oriana merda no attenti infatti ecco ecco dai dai continuo 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 ahhh sono morti io auto back ciao no no rimani 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 perchè perchè non è attaccato perchè perchè tranquillo faccio ora se lo facevi prima non crepavo magari eh ma io non pensavo che volevi ingaggiare io volevo andare back no dobbiamo andare qua è l'auto attack io ancora devo rispondere oh scorda eh no la zonia perchè conoscete snake che sto facendo hanno shottato me quindi adesso vanno su di lui è morto snake l'avete lasciato a me eh non è morto lo guarda che c'è sta qua l'abbiamo perso snake non è morto no sono io ah no no avevo sia flash che che io non andiamo non andiamo dipendiamo solo in inibito no dai dai corri 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 via ok perfetto via 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 ragazzi andiamo in lane per piacere ha flashato a casa ok gli abbiamo tolto la non sono riuscito a fare nulla aspetta aspetta ok bravo bravo vai 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 difendi kogmo difendi kogmo ma non c'ho visione non c'ho visione oriana non è il flash non è il flash te la riasciaro lo giro lo uccido lo uccido lo uccido ok stai a fianco a me emasa non ti allontanare da me mai W? ah quella muore o no? ti ha ucciso jiz vabbè c'è troppo mobility vai 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 fast fast non lo sanno non lo sanno non lo sanno stanno avvenimo veloci veloci basta usalo il morso a mille non ce l'ho ho fatto 3 secondi che culo tu arriva ma non posso vedere il barone snake uccidi uccidi sto provando non focussare co sto focussare l'altro dietro eh scusa io ci avevo questi tutti addosso non ci ho capito più niente oh io te l'ho aggiornato il più possibile si 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 ho fatto 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 vieni verso di me no va via va via oh oddio cos'è aaaaaaah buuuu torretto torretto ho fatto il più peeling io che l'estetista porco tue veramente cioè sembrava uno che si era mangiato le ostri cavariate ma street eggs dice che riusciamo a finirla? si 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 ecco la W del BS nooo ehm 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 lo posso fai lo posso fai lo posso fai lo posso fai mi tengo la W ok jerva diventete diventete muoory muoory meltato vivo muoory meltato vivo oh amaiati Allora resisto nel bel game Contatto di pentakiller 8 miliardi di IP Buongiorno Sono tornato solo per voi Fate schifo Ragazzi grazie mille per l'attenzione Noi ci vediamo al prossimo video Mi raccomando lasciate tanti mi piace E tanti commenti per le nuove team comp Che volete vedere sul canale Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Aspetta 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 non chiudere devo dire una cosa Importantissima Premere Q e vai Marona Kik Marona Kik Marona Kik